Sai dove ti trovi? Adesso? In un trial clinico. Cosa credi che non vada in te? Sono malato. E non mi importa. Quale parte di te stessa sta mostrando questa sperimentazione? Sono in terapia ora? Non sei in terapia. Questa è scienza. Quando si inizia a compenetrare la struttura della mente non vi è ragione per cui non si possa trasfigurare. Il dolore può essere annientato. La mente può essere ricostruita. Quanti dei tuoi pazienti sono diventati catatonici? Zero. Quasi. La mia testa non funziona bene. Ho pensato che loro potessero aiutarmi. È stupido. Io non lo trovo affatto stupido. Ok, gente, cominciamo. 3, 5, 4, 3, 2, 1. La mia mente fa brutti scherzi. Una sorta di strani multiversi cerebrali magici. Non so cosa è reale e cosa no. Qualcosa non va. Che cosa hai fatto? Porza, svegliati! Ogni volta che li separo trovano il modo di riconnettersi. Tu non hai protetto quelle persone lì dentro. No! 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 Non è vero. Non è vero. Non è vero.